Quinto anno di programmazione per racconti per ricominciare, il Green Festival diffuso, ideato e organizzato da Vesuvio Teatro e diretto da Claudio Di Palma. Dalla Casina Vammitelliana alle straordinarie architetture settecentesche di alcune tra le più belle ville vesuviane, la nuova edizione da questa sera fino a domenica 2 giugno ambienta i suoi originali percorsi di teatro in 14 siti, tra i più affascinanti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Spettacoli dal vivo costruiti con la consulenza artistica di Giulio Baffi, seguendo una formula ormai consolidata per unire alle meraviglie di tante architetture storiche e naturalistiche la straordinaria forza evocativa del teatro. Tra i luoghi che si confermano sede del festival riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, oltre che da numerosi enti ed istituzioni pubbliche, ci sono le ville vesuviane che insistono sul miglio d'oro. Circa 70 saranno gli attori impegnati nel restituire al pubblico testi di Italo Calvino, Alberto Moravia, Luigi Pirandello, Gian Battista Basile, ma anche allestimenti di drammaturgie originali straniere, come quelle dell'austriaco Christoph Ransmeier e dei quebecchesi Veronique Coté e Steve Gagnon, grazie alla collaborazione con le sedi di Roma del Forum Austriaco di Cultura e della Delegazione del Quebec. I scenen, oltre alle scritture originali di Fortunato Calvino, Ruggero Cappuccio, Claudio Di Palma, Paco Ioffredo, Peppe Miale, Valeria Parrella, Fabio Pisano e con loro Stefano Valanzuolo e dei giovani Matteo Camerini, Elisa Ciofini, Giacomo Fava, Vittorio Petrucci, per la nuova sezione Spazio 24, realizzata in collaborazione con la rivista Istrio e con Istrio Festival.